Buongiorno a tutti quanti, benvenuti, sono contento di vedere così tanta partecipazione, grazie di aver citato il nostro invito, l'intendimento è quello di chiacchierare un po' con voi, ma soprattutto di farvi toccare con le vostre mani cosa abbiamo fatto in questo sito, perché le cose che importano non è il sottoscritto ma quello che abbiamo fatto. Quindi, innanzitutto, Franco Martegliani, 37 anni di Philips, 20 anni di Fimi, non fate la somma gebbica, se no mi date più anni di quelli che ho, sono contento comunque di aver celebrato per questo anniversario, gli effetti è doppio l'anniversario, 90 anni l'esistenza di questa azienda, che ritengo essere a questo punto sicuramente la più anziana, anche se ci consideriamo giovani, del Saronese, e poi questo è un altro discorso molto personale, 20 anni, mi sono apporto l'altro giorno, ma in effetti è già 20 anni che sono qua, ok? Giusta premessa, perché abbiamo fatto questo incontro? Ci conoscete poco, qualcuno ci conosce naturalmente, ma mediamente, Fimi non è così tanto conosciuta, magari in Marche Fonora sì, molto di più, penso che tutti quanti più o meno in casa, una raggiolina Fonora, un tv Fonora, a suo tempo l'abbiamo avuto, Fimi è in effetti la società il cui marchio in Italia era Fonora, ma è noto come Fonora soprattutto in Italia. Abbiamo quasi ultimato i lavori al sito, e questa era di nuovo una buona opportunità per far vedere cosa abbiamo fatto, e lasciatemi dire per ultimo, ci siamo un po' rotti, passatemi il termine, di andare in giro per Saronno, andare al bar e sentirci dire, ma non eravate falliti, non eravate morti, siete resuscitati, non è vero, la Fimi non è mai fallita, la Fimi non è mai morte, quindi non siamo resuscitati, siamo semplicemente, abbiamo volutamente viaggiato sotto coperta, avevamo qualche falla da sistemarsi, la tattica dice in questi casi, stai tranquillo, vola a basso, perché sempre può capitare qualche cosa, adesso ci sentiamo abbastanza tranquilli, per poter rilevare il nostro profilo, anche a livello pubblico, anche a livello degli amici e dei concittadini, e tutta quanta l'area del Saronno. Questa un po' è la storia, del perché abbiamo fatto questo incontro. Io vi porto via un po' di tempo per raccontarvi un po' del passato di questa azienda, tanto per rinfrescarsi la memoria, passando poi a recenti modificazioni strutturali che abbiamo avuto anche a livello societario, e ripeto, lasciando molto spazio poi a quello che è la visita al sito stesso. Nel 1926 abbiamo scoperto le prime carte che parlano di Fimi, in effetti c'è qualcuno anche nel 23, ma abbiamo preso il 26, anche perché coincideva con il novantesimo, più o meno, quindi siamo nati nel 26, no? Siamo nati nel 26, e adesso ci sono fatti un paio di signori, di signorotti, non lo so, di stranese a fondare questa azienda, che è fatta naturalmente, e le prime radio fatte qua, nel primo di guerra, tante cose nuove, abbiamo scoperto un archivo fotografico in cantina, che spettacolare, e qui abbiamo preso qualche, vedete cose stranissime, questo generatore di corrente usato a pedaglio, in tempo di guerra, e così via, poi chiaramente, uno sviluppo sempre più nella direzione della radio, del suono, quindi di box, giro dischi di una volta, eccetera, e spostare poi nell'applicazione che invece è tenendo la TV. Ho un particolare menzione, questo oggetto, che è risposto a Monza recentemente, era a Google Play, in rigore, perché è l'unico telegiore contante, del mondo, e quindi ancora lì per quello, quindi è stato sviluppato, e costruito qui in Fonola. Ripeto, veramente, sotto abbiamo un archivo, che compoteva ci le aggiornate, che scopre delle cose bellissime, la torre, avete visto? Questo, per chi prende il treno, quando arriva nei pressi di Sonoro, vede la torre dell'acqua, no? E' la nostra Water Tower, che era marcata inizialmente Fonola, e ci ha accompagnato un po' nella storia di questi ultimi anni. Cambiato nome, di volta in volta, recentissimamente abbiamo messo un altro nome, però ecco, a quel tempo era Fonola, che dominava Saloro. Questa è una delle prime immagini del sito, così come era lì. Era Philips, nel 69 l'azienda è stata acquistata da Philips, è diventata una parte integrante del gruppo Philips internazionale, ha continuato a costruire oggetti tipo radio, televisori, eccetera, e poi monitors. I primi monitors fatti per la Philips, da Fimi, sempre collocati in una fascia alta del prodotto. Fimi non l'ha mai fatto, a parte il consumo, naturalmente, oggetti da consumo, ha sempre fatto oggetti professionali. Alcuni di questi hanno fatto veramente la storia, erano ricchi e densi di elettronica e avevano tanti benefici, quindi apprezzati in tutto il mondo. Nomi tipo la Dell, la Honeywell, l'IBM, la Sun, icosystems, sono venuti qua a Salonno a comprare i nostri oggetti. Non ce l'ho ancora, ma mi risulta che neanche lo vado di pari. Qui dentro, in effetti, nell'87, a Fimi, è deciso di buttarsi una nuova avventura che è l'applicazione medicale. Viva lì! E adesso facciamo funzionare con quello. L'applicazione medicale, quindi, Movitos, è l'applicazione medicale, essenzialmente, inizialmente, per le applicazioni tipo raggi X, quindi monofromatici, con un sacco di qualità intrinseche, che hanno fatto sì che questo, l'oggetto Tripogun, diventasse il primo oggetto al mondo per applicazioni radiologiche. Fatto qui, sviluppato qui, c'è parecchia elettronica di tipo analogico, ma già c'è la parecchia elettronica di tipo digitale all'interno. Quindi abbiamo questo connubio di conoscenza del nostro interno che può essere rivelato essere assolutamente vincente quando si è passati all'energia digitale. Quindi, oggetti di questo tipo, naturalmente, e da un certo punto di poi ci siamo anche preoccupati di andare dentro il monito e di aggiungere intelligenza all'interno del monito stesso, e quindi di fare il tablet. Qui abbiamo avuto una grandissima esperienza con Inter, conosciuta, abbiamo avuto un gruppo di sviluppatori Inter che con noi hanno speso un paio di anni su un progetto, che avrebbe dovuto essere il primo tablet medicale al mondo. E l'abbiamo ultimato, chiamato gli schiepi, di da vedersi. Peccato che nel frattempo qualcuno lo inventò iPad. l'iPad ci, come secondo me, castro, il nostro percorso, anche se con l'iPad non si fanno le cose che servono nel mondo medicale, ma tant'è, leggero, sottile, fashion. Ok, l'abbiamo messo nel cassetto e poi l'abbiamo tirato fuori in un altro ambiente perché abbiamo ritenuto in casa le competenze per fare delle cose in seguito che ancora verrete, toccherete un po' sulle nostre cose. E poi naturalmente è sempre più evoluti le applicazioni del tempo, ma poi le faccio vedere, utilizzerò delle fotografie che rendono le più delle parole. Quindi questa era Philips. Fino quando? Fino al 2010. Perché? Perché Philips ha deciso di uscire dal mondo dei componenti, sto parlando di Philips Medical Systems, quindi la parte medicale di Philips. Oggi Philips è soltanto la parte medicale, perché ha abbandonato l'elettronica di consumo, qualche mente ha semplicemente marchiato a Philips, ma lo fa qualcun altro. Ha lasciato le lampade storiche della Philips e ha focalizzato il suo business nel mondo della salute che è medicare, ha allargato anche la casa, eccetera. A suo tempo, infatti, eravamo nel mezzo del cambio strategico, ha deciso di abbandonare i componenti, noi facevamo dei componenti naturalmente, quindi ci siamo guardati in giro per trovare l'apparenza che è possibile vicino a noi. Quando si cerca un po' un acquisitore, di fatto, si cerca un'altra, che ci sia parecchia sinergia, latente, poca sovrapposizione, e abbiamo trovato un barco, un barco, su tutta belga, che si occupa, di soffa, di soffa, di Moreno, se non soltanto, e dopo un paio di anni di discussioni, anche perché nel 2009 non era così facile di fare la cazienda, crisi profonda, siamo arrivati a definire il passaggio, siamo passati dalla vecchia mamma Phillips, tanto amata, sicura, fra virgolette, a un argento non molto noto allora, e a distanza di qualche anno, ormai sette anni, possiamo dire che il matrimonio è assolutamente riuscito, la gente è contenta, andiamo avanti come prima, più di prima, quindi siamo veramente felici di far parte della nuova azienda a barco, ok? Ok, uso questo per raccontarvi come era la situazione del 1997 non è un anno magico, perché sono venuto qua, quindi parto dal 1997 perché qualcuno al board di Amsterdam che ha questa azienda, io non abito molto distante, sono di tradate, sono venuto qua e ho visto un bel disastro, perché di fatto era un disastro, perdite cumulate per oltre 12 miliardi delle vecchie lire, non c'era futuro, un portfoglio prodotti assolutamente non confacente della nuova strategia Phillips e quindi mi è stato detto chiudila, vendila o chiudila. Vendere un'azienda allora volevo dire svendere un'azienda, quando svendi un'azienda fai mai della gente innanzitutto, e poi fa anche il male dal Marco Phillips perché rimane, Phillips è sempre stata percepita come azienda top, sicura, quindi un'operazione vandalica di quel tipo avrebbe creato un impatto negativo anche a livello di brand di lui stessa, quindi abbiamo lottato per avere la possibilità di fare qualche cosa tra di noi e quindi siamo dotati di una deduzione di una forte ristrutturazione aziendale fatta e portata avanti solo e soltanto da noi. Poi ne parliamo, oggi siamo arrivati a fatturare 75 milioni di euro che non è una grande azienda però non è anche più una piccolissima azienda 75 milioni di euro allora nel mercato non è male come azienda va bene? vi racconto diventa molto lunga la storia ma non posso tediarmi ma cosa abbiamo fatto? Innanzitutto i pericrisiti senza un forte supporto del management Philips tutto ciò non avrebbe potuto cadere e insieme al management Philips dicono anche le parti sociali che sono coinvolte abbiamo fatto un percorso insieme di ristrutturazione l'abbiamo fatta mano nella mano condividendo gli obiettivi futuri e cercando naturalmente di fare il meno male possibile penso che ci siamo riusciti io non lo conto in un attimo bisognava necessariamente passare attraverso l'ambigolamento strutturale anche del personale quando sono arrivati sono 350 persone ancora che lavoravano qua mi raccontano che forse erano 800 persone che è un po' di quelli di gusto non lo so però 350 era ancora una bella realtà industriale peraltro peccato che si produceva per lo stock non per la vendita quindi non era possibile continuare a mantenere un livello di produzione di quel tipo con un personale di quel tipo mi piace dire in inglese suona meglio sweat in tears ma no blood vuol dire sudore e lacrime ma nessun spargimento di sangue a tutti i dipendenti perché siamo passati da 350 a 35 a tutti i dipendenti abbiamo trovato una ricollocazione attraverso una serie di processi che poi qualcuno ve lo racconto ma questo e di questo siamo assolutamente fieri abbiamo avuto un'ora di stop di shop abbiamo ripeto lavorato con le parti sociali al meglio e abbiamo condotto questo percorso non era facile è garantisco però ci siamo riusciti in questo senso stop la produzione di prodotti invendibili abbiamo un portofoglio prodotto che non poteva essere guantato sul mercato perché allora i cinesi prima i taluanesi ci facevano le scarpe quindi era perfettamente inutile a produrre questi oggetti siamo passati attraverso una forte terzializzazione quindi attivazione di competenze attorno a noi non necessariamente dentro di noi non può essere in medio di tutti è possibile e poi qui in questa zona abbiamo le risorse formidabili nel settore della meccanica della plastica in tante altre cose quindi perché tenersi tutto quanto in casa partono le scelte esterne in poche parole cercare di spostare il strutturo dei costi da fissi variabili il più possibile forti investimenti in ricerca e sviluppo e nelle nuove linee di produzione in effetti questi lo vedrete poi in seguito sono i nostri due fiori da chiede del venuto noi vendiamo non prodotti vendiamo soluzioni e per vendere soluzioni hai bisogno di una ricerca e sviluppo forte capace di intendere esigenze dei clienti e una linea di produzione top capace di rispettare le stringenti regole del mercato medicale nel quale noi operiamo lo vedrete e sono curiosi di capire da voi cosa avete saputo quindi completa restiturazione portofoglio prodotti abbandonato quello che perdeva focalizzazione sul mercato medicale e su un altro mercato che dopo di un po' abbiamo abbandonato ve lo racconto fra un attimo poi di nuovo eccoci qua nuova mission di Fimi all'interno del gruppo Fimi ho visto allora altrettanto del gruppo barco di oggi un tentativo di installare una nuova cultura aziendale qui era molto cultura di fabbrica che va benissimo si è inteso ma deve essere coniugata con qualcosa d'altro perché il nostro mercato è il mondo non si può ragionare nel mondo soltanto con la cultura di fabbrica bisogna coniugare esperienze di cercare di sviluppo di produzione naturalmente ma anche di commercializzazione di gestione dei canali distributivi eccetera quindi c'era veramente lavorare anche un po' sullo spesso culturale dell'azienda stessa e quindi come conseguenza apertura a nuove risorse ho preso una mia becchia presentazione allora andava di ora non seguì tra più di tanto perché diventa complicato semplicemente lavoro in background vi dico che quando nel 97 noi eravamo tutti in casa tutto ricerca sviluppo marketing gestione dei fornitori produzione andavamo sul mercato in qualche maniera soprattutto all'interno dell'organizzazione Philips ma anche su varie OEM eccetera e come fa 350 persone portafoglio prodotto sbagliato perdita 12 miliardi quindi cosa abbiamo fatto tante cose in mezzo non soffermano su queste innanzitutto Anovo Anovo voi la conoscete molti ci hanno confuso per tanto tempo con Anovo e che da un lato ci faceva piacere ma dall'altro sono loro che sono falliti e non noi quindi permettermi di dire un po' di chiarezza Anovo io incontrai ecco sono indietro allora io incontrai l'azionista di allora che è quasi padrone Monsieur Faison e una mattina il sabato mattina via Meravilli abbiamo firmato ci siamo dati la mano in effetti un accordo per cui loro portavano la produzione in effetti servizio perché Anovo fa servizio post vendita qui da noi noi gli avremmo dato un po' di business ma soprattutto le risorse necessarie alla realizzazione del loro nuovo progetto di diventare una grande azienda nazionale italiana ok quindi li abbiamo alloggiati nel nostro building all'ora di nostra proprietà questo building completo li abbiamo dato da lavorare ma soprattutto abbiamo organizzato questo miracoloso connubio noi inondanza di personale loro sete di personale si muove uno dei motivi per cui spargimento di sangue nulla ok questa è la storia di Anovo qua poi il management è cambiato poi hanno avuto le loro vicissitudini e e poi se vi guardate anche falliti poverini voi non fallete per il momento focalizziamese su questo completo all source anche le linee di produzione passate da nuovo tutto passato da nuovo noi soltanto ricerca e sviluppo e un po' di marketing in essence 35 persone ok pesante cambio di tecnologia da CRT da truco atomico a LCD rischiamo piatto a nuovo non stava andando benissimo non aveva i soldi per investire le nuove linee di produzione e sviluppo e quindi ho dovuto praticare lo sport meno praticabile di allora suonare la campanella della Philips che stava svendendo o vendendo tutte le fabbriche e dire voglio comprare di loro una un po' di tutto un po' anche di fortuna qualcuno qualche amico da subito ha detto ok va e allora abbiamo ricomprato la parte produttiva naturalmente su situazioni diverse rispetto al passato focalizzata su quello che era il nostro nuovo business 85 persone allora e ovviamente un portofoglio di prodotti completamente diversi come vi ho detto nel 2010 passaggio a barco felice passaggio a barco diciamo ha ragionamento da oggi non era così sicuro all'inizio e qui perdo due parole per chi è barco ora barco qualcuno si ricorda nel tempo passato barco faceva i famosi tre cannoni i proiettori dei tre cannoni lgb e si chiama il barco si chiama il barco identificazione prodotto brand adesso questo è il nuovo building fantasciottifico che abbiamo appena aperto portretti la sede delle fiambri in belgio presenza in 90 paesi 3.000 erotti dipendenti una cifra di affari superiore a un miliardo di euro ed è portata nel mercato di brucia tre segmenti enterprise entertainment healthcare parliamo di immagini che si capisce di più se andate al cielo avete la probabilità altissima anzi 60% che 70% del mercato europeo del proiettore digitale è barco ovviamente lo vedete che sta nelle vostre spalle ma è barco è il numero uno mondiale nella proiezione nel quale si chiede distance effetto avatar mando un effetto avatar appunto il 3D ha fatto un modello di distribuzione completamente diverso e si è andato a passare ma è il numero uno al mondo e così via ma anche 20 gli U2 usano barco e non hanno il loro spettacolo e così via ah flight simulation abbiamo venduto la divisione militare ma abbiamo tutti in casa la flight simulation perché è una tantissima tecnologia che può essere utilizzata anche nel futuro per fare altre cose esempio qui vado veloce perché barco contro il room barco è rientrata nel mercato dei proiettori ha fatto questo oggino che è una roba stupenda si chiama click share una volta quando tutti dovevano parlare avevano il loro pc una marea di cavi attorno allo tavolo di VGA o di VUAI con questo uno fa click e trasmette il suo contenuto anche al di là del mondo anche in un'altra parte del mondo con questo oggettino qua realtà eventuale control room nell'educazione naturalmente un esempio di control room mega sali di controlli di questo tipo quindi le utilities pipeline che non è più elementi ok ok dunque qui entriamo nel nostro mondo barco è leader mondiale in diagnostica quindi una volta la lastra si faceva si prendeva il film si metteva nella box si faceva qualche si faceva diagnosi adesso non si fa più così si digitalizza tutto si mette il mega server nell'ospedale e nell'ospedale stesso o al di là del mondo viene fatta la diagnosi il sistema si chiama past picture archiving communication systems mammografia soprattutto che è molto difficile a livello di interpretazione dell'immagine barco numero uno al mondo da poco siamo entrata al mondo della surgical quindi endoscopia laproscopia eccetera lo fa la barco ma noi facciamo tutti i momenti con la barco qua sviluppiamo li costruiamo questo è il mercato il monitorino si mette davanti al paziente all'ospedale che serve per vedere il film ma anche diventa un oggetto di comunicazione all'interno dell'ospedale stesso la dieta la farmacia eccetera eccetera e noi siamo qua ora la parola modality dice magari poco modality si intende tutti grandi e piccoli sistemi di acquisizione per diagnostica di immagine quindi la TAC la risonanza della GX ma anche naturalmente l'ecografia e che pina pina ne metto se lo racconto poi con delle immagini che parlano molto di più e molto meno di me ok ho questo in Belgio questo in Belgio questo è un'azienda che abbiamo recentemente acquistato in California sia le grafiche particolari sempre in Oregon in America e noi siamo qua cosa facciamo soluzioni customizzate il nostro business model è diverso rispetto a quello classico per cui il marketing va in giro capisce le esigenze torna indietro parla con il proprio management il quale va lo sviluppo si sviluppa qualche cosa lo costruisco poi lo spingo sul mercato noi facciamo esattamente l'opposto non è push ma è bull dobbiamo scoprire il cliente capire le esigenze del cliente sviluppare soluzioni che sono tailor made quindi adatte al cliente stesso questo è il nostro business model full ok è molto diverso anche da tutti gli altri e in barco la stessa ah questo mi piace perché perché che racconta un po' noi no intanto siamo italiani e non siamo cinesi e oggi come oggi viva Dio sono già tanto bene perché tutto si sposta tendenzialmente ma noi siamo ancora qua eccellenza non tanto quanto ma ho usato le frecce perché mi sembra che suonino molto ai italiani normalmente no facciamo ricorda quello che vi ho detto tecnologia cardiovascolare chirurgia robotizzata interventistica la GX ecografia sale operatoria ibride ve li racconto poi endoscopia noi siamo presenti in tutte queste applicazioni a livello a livello worldwide noi sforchiamo in tutto il mondo compresa il Giappone e la Cina gli Stati Uniti non soltanto l'Italia è un mercato piccolo per noi perché non ci sono i grandi produttori di sistemi medicali in Italia ok vediamo a tutti i maggiori produttori di sistemi del mondo americano siamo market leader mondiale per quanto riguarda il medical imaging e siamo anche naturalmente voglio dire leader tecnologi in questo senso un'immagine che dice un chilo lavoriamo noi ci sono tutti lo dico io praticamente tutti i grandi naturalmente i tre grandi player mondiali del mercato medicale sono la Cimes la General Analytics e la Philips naturalmente ma poi c'è la Toshica in Giappone ce ne sono tanti altri noi abbiamo la Toshica di progettazione e commercializzazione nel senso che produciamo per questi signori qui che usano il nostro momento integrato nel nostro sistema ok sono tutti veramente ok non voglio parlare tanto di mission ve l'ho già parlato prima ma abbiamo che noi la nostra mission all'interno dell'azienda barco ci sono tre o quattro parole chiave che mi piacciono moltissimo primo flessibilità e entrepreneur riuscito territoriale per l'italiano noi non abbiamo le azioni di questa azienda ma noi ci siamo comportati nel recente passato e anche nel presente come se fossero i proprietari dell'azienda magari con altre tappe diciamo passione grinta eccetera e vogliamo mantenerla e stiamo lottando abbiamo ottenuto il discorso abbondantemente in fixa a suo tempo l'abbiamo ottenuto un barco ma lavorando per l'unico nazionale il nemico vivere sempre dietro l'ancro cambia il sio cambia le strategie quindi è un continuo lavorare coltello in bocca però vogliamo che sia così questo ve l'ho già raccontato non facciamo prodotti che stendiamo sul mercato ma tiriamo dal mercato esigenze e andiamo naturalmente la qualità lavorando nel mondo medicale signori le regole sono stringenti la filiera americana detta le leggi e tutto il mondo le segue e poi vedete cosa dobbiamo fare anche a livello produttivo per stare appresso è veramente una un qualche cosa che differenzia un'azienda rispetto alle altre chi compra da noi sta tranquillo che noi rispettiamo le regole del gioco che sono le più stringenti insieme a quelle militari le regole medicali sono naturalmente le più stringenti e le altre qui faccio una carnellata di sistemi perché poi i prodotti li vedete di dove andiamo a mettere i nostri prodotti all'interno del sistema questo è un sistema che andiamo a sfruttare FIPS nel senso che ti mettono il caffietto qua vanno a lavandarti il pulicino ti mettono a posto ti mettono gli stend ti fanno tutto quello dove fai ti sfidi vai a casa più o meno no perché è così il discorso per farciò c'è un tubo la GX è un revelatore ma poi il medico ha preso delle immagini e le immagini non essere quelle che ti danno le informazioni perché è il tempo reale no quindi noi a questo tempo abbiamo una personalizzazione di monitor magari fino a 6 da 1 megapixel bianco e nero piuttosto che non colore dipende ma non soltanto la visualizzazione questo piccolo oggetto qua è un pc 12 pollici thin client col quale il medico lavora sulle immagini ma lavora anche su molti dei parametri del sistema quindi è completamente integrato all'interno del sistema stesso e che può essere remotizzato tutto medical credit quindi medical adesso abbiamo e siamo stati prima al mondo a farlo un 56 o un 58 pollici adesso 8 megapixel per cui si possono displayare un sacco di immagini con provenienze diverse non soltanto la GX terrafronti eccetera real time non soltanto nella operating room ma anche nella control room di solito il chirurgo è supportato da una equipa che è esterna quindi remotizziamo molti dei comandi degli animali all'esterno questo è lo stesso oggetto del fotoparagena Matrix con il cappello Philips non aveva pensato di entrare nel mondo G si odiavano troppo adesso un barco un altro cappello le porte si erano aperte e siamo entrati clic fanno questo sistema in Francia e noi abbiamo venduto loro il nostro sistema scalzando un giapponese raggi exportatili si chiamano Sian un po' per tutti direi questo è veramente il nostro mondo in Germania Stati Uniti in Olanda in India facciamo un po' tutto noi ecografi abbiamo venduto a Siemens abbiamo venduto a Toshiba e stiamo ancora vendendo a Philips tac risonanze non è proprio il nostro mercato non ha bisogno di grandi monito ha bisogno di questo quasi sufficiente ma il ricordo sta cambiando quindi stiamo dentro perché prima o poi le regole del gioco cambieranno e allora giocheremo il nostro asse recentemente abbiamo ultimato un progetto che ha durato anni per Philips Philips ha lanciato questo nuovo sistema di Image Guidance Therapy quello che vi ho detto prima che sembrerebbe essere veramente rivoluzionario e abbiamo fatto tutti i monitor per l'Orfan 5 monitor un 24 full SD 2 megapixel un 4 megapixel un altro da control room tutti ad alta brillanza questo oggettino qui che è quello che vi ho fatto vedere prima modernizzato il sistema di controllo l'oggetto di controllo del sistema stesso il tutto eventualmente castellizzato è stato un grande progetto veramente grande progetto due anni arrotti di progettazione che è perché loro in ritardo ma siamo dentro siamo dentro per tanto tempo questo sistema da Vinci qualcuno mi ha sentito parlare il sistema da Vinci è un sistema robotizzato fatto in California a Primo il paziente è qua gli entrano un po' di aghetti un po' di cose strane in questo caso nell'addome il medico è qua a una certa distanza e lo opera con dei micromanipolatori guardando un sistema stereoscopico vero vero 3D che facciamo noi lo stiamo facendo da tanto tempo qua dentro più il sistema di controllo esterno il sistema da Vinci tra l'altro in Italia è uno dei mercati migliori oggi come oggi da Vinci è utilizzato per fare certe operazioni che altrimenti non potrebbero essere portate a terra e stiamo vendendo da anni anni in questa azienda potete immaginare il livello di attenzione di qualità e di rispondenza alle regole che c'è in un sistema leggero quello è sotto il nostro nuovo concetto di cyber vedete quanti sempre di più in sala operatoria entra una tecnologia di tipo diversa e sempre di più c'è la necessità di avere contemporaneamente l'informazione disponibile quindi Moitos tutti i medicati se faccio questo tipo di approccio cablato in struttura tradizionale audio-video qui vede fuori scusate il termine un bordello gigantesco di cavi nei quali eventualmente il chirurgo o gli assistenti potrebbero inciambare noi abbiamo inventato la bar con una struttura diversa si chiama video-over-IP quindi dobbiamo trasferire i carri il segnale video in IP quindi internet protocol e lo distribuiamo con i mezzi classici della rete non della rete audio-video della rete del PC dove sta la verticalità latenza zero latenza zero vuol dire che quando vedo qualche cosa è esattamente allo stesso momento in cui sto facendo questa qualche cosa non la posso vedere con mezzo secondo vado lungo col taglio ok quindi questa è veramente una grande tecnologia barco ma che noi integriamo in tutti i nostri monitor non soltanto monitor ci sono un sacco di oggettivi che sono fondamentalmente dei PC dedicati mi soffermo con quelli e mi hanno detto 28.000 questo è il famoso discorso che vi facevo prima fatto con internet earth care questo è un oggetto che facciamo per la società americana leader mondiale electronic nel Minnesota ed è un oggetto con il quale il tecnico e il medico aggiusta il pacemaker dopo aver rompito il cardano di nuovo ovviamente immaginare che c'è un po' di tecnologia di qualità alle spalle di certezza del successo dell'operazione altrimenti fai in fretta giusto e questo lo stiamo facendo noi l'abbiamo progettato soltanto due anni di co-sviluppo con i tecnici loro l'abbiamo messo a punto lo stiamo producendo lo vedrete solo in produzione fra un attimo e così via recentemente abbiamo lanciato un nuovo baby che è questo qua questa volta è un thick client tutto fatto da noi in collaborazione con un'altra società italiana di Arezzo che abbiamo scoperto essere un ottimo partner nel mondo del pc ha degli ottimi entratori in inter lavoro in la guardia abbiamo scelto un'architettura particolare che si chiama Q7 ma non vi sto a studiare la vedete dopo è lanciato sul mercato alcuni dei nostri successi ma ce ne sono tanti gli altri siamo stati i primi a fare il 3D medicale siamo stati i primi a mettere l'audio video sopra IP abbiamo fatto il primo tablet portatile medicale ancorché vi ho detto prima il discorso ipad e ci sono i primi al mondo a lanciare e a rilanciare violentemente la tecnologia 8000 pixel ok cosa abbiamo fatto lo vedete dopo prima la fabbrica era così e anche peggio scusate ho preso qualche immagine e voi l'abbiamo trasformata in qualcosa del più carino sul 5000 m2 in grosso modo concentrato non perdo tempo andate e la vedete dopo spero che vi possa piacere tutte le certificazioni del mondo sono qua l'ultima che mi piace citare è questa a febbraio dell'anno scorso a gennaio dell'anno scorso abbiamo avuto l'FDA è un'ispezione non è un'audite è un ispettore federale degli Stati Uniti che viene qua ha fatto una settimana qui da noi questa è la war room cosa di battaglia la stanza della battaglia di là c'era la signora che faceva la richiesta fammi vedere il documento YYZ e noi in tempria gli dà una risposta di solito ti massacra la Philips ha fatto due anni di chiusura a livello dell'età la Siles e la GE altrettanto la barca non l'ha mai passata noi alla fine questa è veramente una cosa quasi estremitosa abbiamo avuto 0 Findings e 0 K quindi la signora che ha fatto il Lodip non è mai capitato ma non ha trovato nulla che non funzionasse e non abbiamo dovuto provocare niente in contraposizione cioè spesso ti dice qui è sbagliato tu dici ah si aspetta però io ho pronta questa azione correttiva non ne abbiamo avuto né uno né l'altro è fiale è stata un'esperienza è bestiale un'altra bella esperienza del passato è che Simes il più grande concorrente di Philips ha premiato la Fimi per essere the best of the best supplier of the year quindi aveva cinque criteri di selezione di qualità noi gli abbiamo vinto i cinque contemporaneamente ci ha dato un premio che è questo qua ci voleva credere nessuno ma gli abbiamo vinto noi adesso faccio un po' bauscia ma ve l'ho detto abbiamo fatto stente per tanti anni concedete poi giuro lo facciamo ottimo ancora per altri 10 anni ok concludo più o meno dicendo non solo business e qui usciamo un po' dai numeri diciamo che persone dirette in film oggi sono 108 due cose le voglio dire politica dei giovani abbiamo incertito un sacco di giovani nuovi e il contratto diciamo temporaneo e poi temporaneo continuiamo a aumentare il nostro il nostro parco di risorse umani punto però la gente che lavora con noi ma contemporaneamente questa è una filosofia tutta nostra cerchiamo di tenere on board le competenze qualcuno pensa che il posto per il giorno si crea mandando in pensione un azione io non sono d'accordo non è che non è come entra c'ho 50 posti devo uscire uno per entrare un altro no siamo in una situazione dinamica io preferisco essere su un treno che cammina sulle lunghe distanze che ha bisogno di più vagoni perché l'economia si trae aggiungendo vagoni al treno e allora lì noi facciamo entrare facendo che cosa sfruttando le competenze degli altri allora sia giusto o meno io lo dico lo stesso io penso che una persona anche alla sua età abbia costruito una consistenza un profilo personale nei confronti della famiglia degli amici dell'azienda della società che è inficiata da un sacco di ovvie no friction il capo non mi fa far carriera io potrei fare di più quello mi fa fare le scarpe eccetera eccetera giusto benissimo vi posso garantire prendete la stessa persona la mandata in pensione la riassumete scevravi tutti questi ostacoli al contorno diventa un genio a livello di coaching di tiragrande veramente i giovani e di dare all'azienda ciò che ha imparato nell'azienda stessa per anni e anni ripeto funziona da dio e abbiamo anche persone ancora in azienda che hanno fatto questo percorso e allora la volta più un po' si è iniziato ciò che ha imparato e però abbiamo pronto quell'altro eccetera 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 tutto un contesto di crescita globale perché se non si cresce globalmente ci va da solo parte questo è una fire roll ripropaga ma abbiamo almeno ne ho contate almeno un'altra cinquantina di intorni che lavorano per noi e qualcuno solo per noi vari settori vi ho detto prima outsourcing no quindi c'è tanta gente che lavora per noi non in azienda ma fuori dall'azienda abbiamo un sacco di fornitori agli italiani non è che compriamo tutto all'estero in Cina plastiche meccaniche elettroniche imballaggi stampi tutta la parte di sviluppo meccanico otteniamo le competenze in casa di controllo verso il mondo esterno ma facciamo sorsi naturalmente ultimi sette anni nel building spesi più o meno 2 milioni e mezzo di euro che sono andati a finire d'oro territorio perché siamo andati qui intorno a cercare risorse no le mie produzioni che vedete sotto di nuovo un milione e mezzo di euro spesi e non è ancora finita questa è come la fabbrica del Duomo sia l'arma che il software è sempre in crescente è sempre in miglioranza sempre non si può dire fatto non è possibile e spendiamo in R&D abbiamo speso 39 milioni di euro negli ultimi sette anni che grossomodo corrisponde a un nuovo percento del fattore altra attenzione alla green quindi i nostri prodotti sono ecocompatibili al 100% ci siamo arrivati iscritti facciamo parte del BOMCHEK che è un comitato internazionale a difesa delle sostanze bandite eccetera eccetera c'è una dichiarazione di conformità per ogni prodotto abbiamo vinto più o più volte il premio per quando il nuovo prodotto deve essere trocato in medio rispetto al passato abbiamo vinto più o più volte il premio all'interno di Philips teniamo questa politica all'interno della struttura di sviluppo Frank Ben è il personale soltanto qualcuno è un ricato onestamente chi vuole andare in paestra noi paghiamo quasi integralmente la palestra c'è un nominal fee pagato perché sennò tutti si scrivono però non ci vanno è una cosa un po' bigiata comunque di solito paccheggio per non affonare troppo il dintorno poi qualcuno invece appartiggiare in maniera sbagliata però noi lo paghiamo praticamente tutto abbiamo una messa che recentemente abbiamo rinominato in ristorante perché il cibo lo facciamo all'interno e al dipendente costa meno di un euro quindi tutto compreso abbiamo esteso la possibilità di assicurazione medica a tutti compreso gli operatori di linea tutti possono accedere a questo tipo di discorso e tutti compreso gli operatori di linea non mi piace chiamati operati hanno uno schema di incentivo associato esattamente come il venditore esattamente come dunque l'anno scorso hanno messo da parte 1,3 circa massività in più rispetto alle treci ok abbiamo un gruppo corporate social responsibility l'abbiamo un po' ridotto dal concetto film ma l'abbiamo abbiamo la nostra letta museo abbiamo lavorato per la digital divide abbiamo costruito un oggetto che è andata intorno negli istituti perché si cercava di promuovere il concetto digitale gente del parecchi anni mettiamola così quindi abbiamo fatto un oggetto che era semplice utilizzarsi eccetera rispetto all'ambiente ultimamente abbiamo pitturato un po' tutto dipinto un po' tutto con delle soluzioni di componenti chimici speciali che riducono e fanno precipitare la pollution eccetera abbiamo un codice EGLE all'interno barco che tutti hanno sottoscritto ma abbiamo anche la participazione della 231 che è la famosa legge italiana contro la colluzione ma che è espansa nella direzione del mondo del lavoro della sicurezza sul lavoro eccetera eccetera abbiamo tutto in place risparmio energetico abbiamo fatto conto soffitti a tutte le parti abbiamo un monitoraggio costante dei consumi di dette città andando sempre a abbiamo rifatto il corridore che poi verrete andando in messa già rinforzato possiamo mettere i pannelli solari appena potremo lo faremo quindi c'è tanta attenzione in questa direzione scuole noi crediamo nelle scuole ovviamente nel matrimonio nel connubio scuole scuola azienda quindi andiamo a parlare nelle scuole vediamo anche qui stegisti stegisti a cui non facciamo fare fotocopie chiedete a loro sono ragazzi che vengono lavorano bene insieme a noi imparano stanno qui anche mesi naturalmente e anche oltretutto ci aiutano perché quando entrano è un doveso è più un dare che avere naturalmente a volte anche un peso per i colleghi che si trascinano il bargolo però pensiamo di fare delle cose interessanti in questo senso ok last part of the list io spero che visitando l'ambiente vedendo la faccia della gente abbiate le mie stesse impressioni io misuro il livello di situazione della gente quando la gente sorride se c'è la faccia incazzata tranne io non ce l'ho sempre incazzata vuol dire che c'è una cosa che non vai l'azienda quindi se la gente sorride vuol dire che migliormente le cose vanno bene in più abbiamo un sistema di misurazione periodico engagement survey l'ultimo fatto ha prodotto risultati che sono i primi nel mondo barco fini era prima nel mondo barco come livello engagement non so come si traduce di soddisfazione del personale qua e fra i primi posti a livello di situazioni anali in Italia e anche a destra e questo è oggettivamente provato finisco dicendo quello che ho detto prima noi su azienda non la possediamo perché non abbiamo le azioni ma è nostra grazie bravo grazie a tutti anzi 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 medicano e sanato non c'erano ma è che ero la struttura della�י in analisi miglior in jackets Grazie.